Musica Ragazzi Interrotti è stato un progetto importantissimo per noi, un progetto pensato per dare voce alla generazione che non aveva voce, la generazione che probabilmente ha sofferto di più durante i lunghi mesi di lockdown, per la perdita delle attività scolastiche, ma anche per la perdita delle attività sociali, di quelle ricreative, della possibilità di stare insieme. Sappiamo quanto è importante durante l'adolescenza poter condividere le esperienze. E allora la nostra Ilaria Iacoviello è stata bravissima nel raccontare le storie di questi ragazzi in due momenti diversi di questa lunga e difficile situazione che abbiamo affrontato dal Covid-19. Pensiamo che sia importante aver ricevuto questo premio da parte del Moj, ne siamo davvero onorati e credo che questo premio vada condiviso con tutta la redazione, con chi ci ha lavorato, ma anche proprio con i ragazzi. I protagonisti di queste storie sono una generazione a cui pensiamo si debba prestare più attenzione e non trattarla come una generazione troppo diversa da quelle che l'hanno preceduta.